Ancora una volta l'isola ecologica di via settima strada Bellocchi è stata utilizzata come discarica abusiva di vario materiale. Un'incivile evenienza che si è verificata già in passato e di cui ce ne siamo ancora occupati, allertati quella volta come anche questa dagli stessi residenti che abitano nelle case adiacenti lungo la strada. Oltre ad essere una strada dalla scarsa illuminazione, cosa che probabilmente favorisce la disdicevole usanza, i cassonetti della differenziata si trovano proprio sul ciglio della strada per cui è molto facile fermarsi rapidamente con l'auto e una volta aperto lo sportello scaricare ai piedi dei cassonetti qualsiasi cosa e ripartire indisturbati. Anche questa volta oltre alla beffa anche il danno, sì perché gli aiuti del banco alimentare, i pacchi di pasta, le scatole di pelati, zucchero, farina e i generi di prima necessità che noi durante le raccolte doniamo al banco nei supermercati, come si vede dagli scatoloni, sono finiti in mezzo alla strada. Assieme alle provviste alimentari, date in pasto a cani, randaggi e a topi, altri elementi dannosi all'ambiente sono stati lasciati lì, calcinacci, bidone di plastica e di vernice, mezzi pieni ed una pericolosa batteria da auto. Alla fine di questo ennesimo scempio gli abitanti chiedono che anche qui venga installata la telecamera antifurbetti del cassonetto come è avvenuto in altri punti critici della città, così da disincentivare all'abbandono illegale di rifiuti. Oltre a ciò ci segnalano anche una buca presente sul manto stradale che col passare del tempo e le piogge ripetute è diventata ormai una voragine, vera forca caudina per bici e motorini che rientrano a casa durante le ore notturne e che tentano disperatamente di evitarla.